Per celebrare l'inizio del capitolo 5 di Fortnite, Epic Game ha deciso di dare il via ad una promozione che permette a tutti i giocatori di ricevere una skin gratuita e la sua versione Lego. Sto parlando dell'esploratrice Emily che è una delle skin del Battle Royale che ha la sua forna standard e dispone anche di quella in versione mattoncini che si potrà utilizzare appunto dal 7 di dicembre nella modalità Lego di Fortnite del capitolo 5. In questo video vi spiegherò tutti i passaggi per poter riscattare questa skin gratuitamente che sarà disponibile da domani 7 dicembre. Quindi seguite tutti i passaggi se volete anche voi riscattare questa mattoncina skin. Il primo passaggio per riscattare la skin è andare sul sito della Lego. Vi lascio il link in descrizione direttamente e andare nella sezione Lego Insider, registrarvi se non siete già registrati e poi una volta fatto ciò dovete andare sul vostro account Epic e nella sezione App e Account dovete collegare il vostro account Lego Insider con quello di Apic. Quindi nella sezione dove avete Twitch, Xbox, PlayStation Network troverete l'icona Lego, lì cliccate sul tasto collega, collegati, vi loggerete con la mail e la password che avete usato per creare l'account Lego Insider e una volta collegato da giovedì 7 di dicembre quando uscirà la modalità Lego per Fortnite riceverete la skin nel vostro armadietto. Quindi due passaggi davvero semplici per avere in regalo questa skin, quindi fatemi sapere cosa ne pensate e prima di chiudere il video di oggi mattutino dedicato alle novità, vi ricordo che ogni giorno escono i contest dello shop giornaliero su questo canale, quindi iscrivetevi al canale perché anche oggi c'è il contest dedicato a una skin che è la skin Bracer da 800 V-Bank e se sarete iscritti attivando la campanella e avrete lasciato il like al video e il video risulta ai 100 like e il canale arriverà ai 2000 iscritti, sceglierò chi avrà commentato qui sotto con la parola Bracer uno di voi che riceverà in regalo la skin dal sottoscritto. Quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella e spolliciate se volete partecipare. Ultimo, se volete supportarmi il codice creatore è già YT tutto attaccato, se lo farete, se userete il codice nello shop mi raccomando taggatemi su Instagram, trovate il link nella home perché vi riposterò su Instagram e vi menzinerò in prossimo video. Quindi mi raccomando se lo farete taggatemi, fondamentale. Quindi, detto ciò, fatemi sapere se riscatterete la skin, sono curioso, e se non siete in hype per provare questa nuova modalità in collaborazione con LEGO perché io sono davvero curioso di vedere come sarà questa nuova modalità. Quindi, noi, per questo video è tutto, noi ci vediamo più tardi con le mappe creative come al solito, mi raccomando, andate a vedere il video e vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, noi speriamo più tardi e vi auguro una buona giornata con il cuore e un buon game a tutti. Io vi ringrazio e noi ci vediamo dopo con la mappa creativa. Ciao! Ciao!